ballo bene vero? no non balli bene dai scemo questo stupidissimo oscar avrei dovuto già vincerlo dieci volte almeno ragazzi ora vi parlerò delle mie due più grandi passioni che sono i pokemon e holly e benzie lo so è strano però va niente adesso vi faccio quindi vedere la mia carta di pokemon preferita in assoluto che è magic art ed eccola proprio qui bellissima ora invece vado a fare come holly e benzie bene guardate quanto sono brava ok si ha messo solo 115 tiri per fare galle ma alla fine se l'ho fatta e vi invito a scrivere qui sotto nei commenti il vostro pokemon preferito un bazzone ciao